Lancia Ypsilon si rinnova, un cambio d'abito che porta con sé le nuove tecnologie del gruppo, mantenendo l'eleganza di sempre. Non si stravolge l'estetica della Fashion City Car italiana, con le linee che ricalcono il modello precedente. La vera novità sta nel muso, omaggiando la storia del brand, nuova Ypsilon cambia sguardo. Il frontale ridisegnato sottolinea lo spirito elegante della vettura, con una nuova calandra e gruppi ottici a LED. Il risultato è più moderno e al passo con i tempi, strizzando sempre l'occhio al pubblico femminile. All'interno troviamo uno stile familiare, con tutta la strumentazione raccolta al centro della plancia, tra la quale spicca il nuovo sistema di infotainment, ereditato dalle cugine del gruppo. Termo touchscreen e sincronizzazione con il proprio smartphone la rendono contemporanea e vivibile tutti i giorni, venendo incontro alle esigenze di una vita sempre più connessa. Contemporaneità vuol dire anche fare scelte sostenibili, per questo all'interno troviamo un nuovo rivestimento ricavato dalla plastica riciclata raccolta nel Mediterraneo. Cavalcando le necessità del periodo storico, l'attenzione di Lancia si è rivolta non solo all'ambiente, ma anche alle persone. Il nuovo kit Eco Chic è infatti in grado di trattenere allergeni e inquinamento per favorire la qualità dell'ario all'interno della vettura. Non uno stravolgimento, quindi, quello di nuova Lancia Ypsilon, ma un ritocco estetico e tecnologico per mantenere accattivante una delle regine delle nostre città, in grado ormai da tanti anni di dominare il mercato.